Il pedone avvelenato, un titolo enigmatico che chiude una trilogia. Sì, sono tre i volumi, il primo è Il sacrificio dell'alfiere, seguito da una scacchiera d'oro, e ora quest'ultimo che è un romanzo storico, che è Il pedone avvelenato, la storia di Gioacchino Greco, il più grande scacchista italiano di tutti i tempi. Tutto diciamo si svolge nel mondo degli scacchi, un mondo davvero sconosciuto forse a molti. A molti sì, ma è sempre più diffuso, soprattutto nelle scuole, soprattutto nelle nuove leve, giocano tantissimo, ed è un gioco affascinante, una palestra per la mente importantissima, è un gioco piacevolissimo, che ha avuto grandi, grandi protagonisti, di cui Gioacchino Greco è stato il più grande, è un giocatore del 600, il più grande italiano che abbia mai raggiunto i livelli eccelsi. Questo è un giocchino greco, che è di Celico, in provincia di Cosenza. Pensare a una trama, diciamo, rappresentata nel mondo degli scacchi, ma cosa c'è di più da raccontare? Ma praticamente tutti e tre i romanzi sono dei noir, quindi sono dei romanzi molto avvincenti. Il primo è un noir duro e spietato, il secondo è un action thriller e quest'ultimo terzo invece è un romanzo storico, in cui io mi sono preso la libertà di fare il biografo di questo grandissimo scacchista calabrese, di cui si sa molto poco, si sa l'anno di nascita, l'anno di morte, quando è scomparso. Un libro che verrà presentato a Palermo domani? Sì, domani sera, mercoledì 21 alle ore 19 al centro Scacchi Palermo, in via Enrico Fermi 8.